Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Anticipazioni, Terra Amara, dal 9 al 14 ottobre. Nel cuore della suggestiva villa, le vicende dei nostri personaggi si intrecciano, creando una trama sempre più avvincente. Beyge fa il suo trasferimento nella tranquilla località, mentre Demir e Umit, travolti dalla passione, trascorrono una notte d'amore. Nel frattempo, l'assenza di Zuleya getta nell'angoscia il cuore di Fadig, che soffa per la sua mancanza. Mujgan riceve una preziosa lezione, da parte di Fekeli, il quale svela un lato inaspettato della storia degli Yaman, gettando una luce nuova, sul destino di questi personaggi, e sugli intrecci del loro passato. La puntata di lunedì ci porta nel salotto di Sani e Fadig, che si ritrovano nella pittoresca villa insieme alla giovane coppia appena sposata, Gulten e Cetin. La villa, gentilmente concessa loro da Yilmaz, è diventata la loro dimora dopo il matrimonio, un luogo di speranza e amore. Tuttavia, la loro felicità è improvvisamente oscurata dalla visita inaspettata di Mujgan, la quale sembra portare con sé un'aura di mistero e tensione. La situazione attuale di Beige ha costretto la dottoressa, a prendere una decisione dolorosa, che non lascerà nessuno dei presenti indifferente. La dottoressa spiega con sincerità, che ha urgente bisogno della casa, nonostante sia consapevole dell'appena concluso trasloco, di Gulten e Cetin. Mi dispiace profondamente, dice, ma devo chiederti di lasciare questa casa. Il silenzio che segue, è rotto solo dall'ira di Sanye, la quale si confronta con Vemenza contro Mujgan. Tuttavia, il dottore rimane irremovibile nella sua richiesta, mettendo Gulten alle strette. Hai una settimana di tempo per lasciare questa casa, sentenzia. Tornato a casa, Cetin, scopre la richiesta di Mujgan e decide di condividere la notizia con Fekeli, sottolineando l'urgenza della situazione. Dall'altra parte, Sanye si sente in dovere, di condividere la verità con Zuleya e Demir riguardo all'atto della dottoressa. Tuttavia, Gulten la prega di mantenere il silenzio, affermando che la pace, è ora la loro priorità. Quale ammette che il suo cuore batte per Mujgan il giovane confessa, di non riuscire a smettere di pensare a lei. Nonostante si senta in colpa per aver concentrato la sua attenzione sulla vedova di Yilmaz, che considerava un fratello, il medico sprona l'amico a continuare il suo percorso, e a perseguire con determinazione la conquista della donna che occupa il suo cuore in villa. Mentre i destini dei nostri amati personaggi si incrociano, il piano di Sevda per riavvicinare Demir e Zuleya, sembra dare i suoi frutti, specialmente per la giovane donna, Zuleya, che comincia a guardare suo marito sotto una luce diversa. Le giornate a Kukurova si sosseguono, portando con sé una serie di eventi che lasceranno un'impronta indelebile nella vita dei nostri protagonisti. Ma tu ti sei già iscritta al canale? Se per caso, non sei ancora nella nostra community, fallo ora, semplicemente cliccando sulla campanellina. Il sole calante, annuncia una serena cena in famiglia per Demir, un momento di pace dopo le tempeste del passato. Tuttavia, questa tranquillità viene interrotta bruscamente da una chiamata inaspettata da parte di Umit, l'amica di Demir. Nonostante l'ora insolita, la voce ansiosa di Umit non lascia spazio a esitazioni. Si scusa per il disturbo, tardivo, ma rivela che la sua casa è stata invasa dall'acqua, a causa di un'improvvisa perdita da un tubo rotto. L'acqua scorre senza controllo, e Umit è disperata, incapace di trovare il rubinetto per fermare il caos che si è scatenato. Demir, senza esitazione, abbandona la tavola, e cerca una scusa per giustificare la sua partenza improvvisa, senza svelare la vera ragione. Tuttavia, la voce decisa della donna anziana presente in casa lo mette in imbarazzo, chiedendogli apertamente perché un uomo sposato debba uscire a quell'ora della notte. I sospetti iniziano a serpeggiare, creando un'atmosfera tesa che non passa inosservata neppure a Sevda. Quest'ultima nutre dubbi e insinua sospetti nella mente di Zuleya, che cerca in ogni modo di nascondere la propria tristezza quando comprende che Demir sta ancora una volta abbandonando la villa. Le parole di Sevda, che spingono Zuleya a considerare la possibilità di un futuro luminoso con Demir, risuonano nelle orecchie della donna mentre attende ansiosamente il ritorno del marito. Zuleya è tormentata dal dilemma tra abbracciare il nuovo inizio che si profila all'orizzonte e la paura di voltare definitivamente pagina, abbandonando il passato legato a Yilmaz, il suo amore eterno. Nel frattempo, presso l'ospedale, Fikret si confida con sua cugina Mujgan in una conversazione confidenziale e appassionata. Fikret ammette di essere follemente innamorato di Muzan, un amore segreto che lo tormenta profondamente, soprattutto perché si sente in colpa per aver trascurato la vadova di Yilmaz, che considerava come un fratello. Mujgan, con occhi colmi di comprensione, lo incoraggia a seguire il suo cuore e a lottare per l'amore che lo ha travolto. Le vite dei protagonisti si intrecciano in una danza complessa di emozioni e desideri. Sevda, determinata a riavvicinare Demir e Zuleya, sembra ottenere risultati positivi, specialmente per Zuleya, che comincia a guardare suo marito con nuovi occhi, colmi di speranza e passione. L'incertezza pervade l'aria mentre Demir, invece di tornare a casa quella notte, si abbandona a una passione proibita con Umit, dimenticandosi momentaneamente dei suoi doveri familiari. L'alba si fa strada, e Zuleya resta sveglia, riflettendo sulle parole di Sevda e sulle scelte che dovrà compiere per il suo futuro. Nella fresca mattina seguente, Gulten e Cetin, furono costretti a dire addio alla piccola villa, che avevano abitato con amore e speranza. Le lacrime scorrevano copiose, mentre abbandonavano la dimora che avevano sognato di chiamare casa, le loro voci spezzate dalle emozioni e dalla disperazione. Raccolsero con cura ogni oggetto personale, cercando di trattenere quel senso di vuoto che aveva ormai preso il sopravvento. Con i cuori pesanti, si diressero verso una nuova abitazione, cercando di lasciarsi alle spalle il passato, e di affrontare un futuro incerto. Cetin, in particolare, era pervaso dalla rabbia, e dalla frustrazione, eppure sapeva che dovevano andare avanti. La vita li aveva colpiti duramente, ma c'era ancora una strada da percorrere. Nel frattempo, Cetin giunse in ospedale portando con sé una chiave e un bagaglio carico di silenzio. La sua rabbia era palpabile. Non aveva bisogno di parole per esprimere la sua delusione. Mujgan, d'altra parte, lo osservò in silenzio, incapace di fronteggiare la tempesta di emozioni che aveva scatenato. Più tardi, Mujgan accompagnò sua zia in un appartamento dove la donna incolpò senza mezzi termini Zulea di aver nascosto l'eredità di Yilmaz, accusandola di aver volutamente rovinato le loro vite. La tensione nell'aria era palpabile, e le parole taglienti riempirono la stanza mentre ciascuno cercava di difendere la propria posizione. Nel frattempo, Demir fece ritorno alla villa e si avvicinò con umiltà a Zulea. Le spiegò che aveva bevuto troppo, la sera precedente e aveva deciso di trascorrere la notte in un hotel. Zulea accettò la sua spiegazione, con un leggero sospiro di sollievo, anche se nel profondo del suo cuore, c'era un senso di confusione e incertezza. La sua mente si riempì di pensieri su Demir, su ciò che stava accadendo tra di loro e sulla sua relazione con Yilmaz. La notte passò lentamente, e Zulea rimase sveglia, aspettando l'arrivo di Demir. Tuttavia, quando finalmente si addormentò, il suo sonno fu agitato da sogni turbolenti e dalle parole di Sevda, che le aveva consigliato di andare avanti con la sua vita. La sua coscienza era tormentata dalla sensazione di colpa e dalla paura di tradire il ricordo di Yilmaz. Nel frattempo, a casa di Umit, la situazione prendeva una piega inaspettata. Il dottore e sua moglie erano sempre più coinvolti l'uno nell'altro. I loro sguardi si incrociavano con un'intensità magnetica, e l'attrazione reciproca cresceva di ora in ora. Il piano di seduzione del dottore stava funzionando alla perfezione, e Demir si sentiva sempre più attratto da Umit, nonostante la confusione che albergava nella sua mente. La mattina seguente, quando Demir raggiunse il suo ufficio, la prima cosa che fece fu chiamare Umit, per organizzare un nuovo incontro. Umit assicurò a Demir che non aveva alcuna relazione con nessun altro e che sarebbe stata sempre disponibile a vederlo quando lui lo desiderava. Demir rispose con tristezza nella voce, confessando, Anch'io, incredibile come possa sembrare, non sono coinvolto con nessun'altra persona. Nel frattempo, il piano di Fikret stava progredendo senza intoppi. Rashid fece ritorno alla villa e riferì a Sanie che i suoi zii avevano avuto un incidente, e aveva dovuto prendersi cura di loro. Nel tentativo di preservare la memoria di sua madre, Zuley ha decise di organizzare una raccolta fondi, in suo onore. Gli abiti della matriarca sarebbero stati messi all'asta, e i proventi sarebbero stati devoluti all'Istituto per la tutela dell'infanzia. In un gesto di generosità, Zuley ha donò persino un terreno per sostenere i bambini bisognosi. Tuttavia, la mattina portò alla luce una sorprendente scoperta. I soldi di Yilmaz erano situati su un terreno che Zuley aveva donato volontariamente a un ente minorile, rendendo di fatto il denaro di proprietà dello Stato. Beyige, fuori di sé, iniziò a urlare contro gli ufficiali, dichiarando con rabbia che quei soldi le appartenevano. Tuttavia, sia Gaffur che le autorità ricordarono a Beyige che il terreno era stato ceduto all'Agenzia per i minori, sottraendo così il controllo di Beyige su quei fondi. La villa fu scossa dalle urla e dalle minacce di Beyige mentre la sua rabbia cresceva. Nel frattempo, Zuley ha decise di recarsi in ospedale per cercare spiegazioni dirette da Mujgan, convinta che la verità doveva emergere. In un'atmosfera carica di tensione, Beyige fece il suo ingresso alla porta della villa. Era visibilmente furiosa, i suoi occhi scintillanti di rabbia, e l'agitazione che l'aveva presa era palese. Aveva una sola missione, trovare Zuley. Con passi decisi, iniziò a rivolgere insulti a Sevda, che cercò di difendersi con fermezza. L'intero staff della villa rimase a bocca aperta di fronte a questo acceso confronto tra le due donne. Beyige non perse tempo e creò uno scandalo senza precedenti, incolpando Zuley di aver ceduto quei terreni. Conoscendo bene il fatto che vi fossero custoditi i 30 milioni di lire di Imaz, le minacce riecheggiarono nell'aria mentre Beyige lasciò sbalordita Zuley con una notizia sorprendente. Era diventata la nuova vicina di casa. La notizia della situazione giunse all'orecchio di Zuley, che non poté fare a meno di arrabbiarsi profondamente. Decise quindi di recarsi in ospedale, per cercare spiegazioni dirette da Mujgan, non disposta a tollerare ulteriori complicazioni. Quando giunse all'ospedale, l'atmosfera si riscaldò immediatamente, e le due donne iniziarono a litigare in un corridoio affollato, sotto lo sguardo attonito dei pazienti e del personale. Umit, vedendo la scena, decise di intervenire, consapevole che quel luogo non era adatto per risolvere questioni personali. Tentò di difendere Mujgan, anche se non capiva del tutto, perché si fosse lasciata coinvolgere in quel confronto. Zuley, per sua parte, non comprendeva appieno la situazione e non sapeva cosa spingesse Mujgan a difendere la sua causa. Tuttavia, alla fine, Mujgan chiese a Zuley di superare finalmente la morte di Ilmaz, esprimendo la sua stanchezza per l'arroganza di Demir. La reazione di Zuley fu istintiva, rispondendo con un tono freddo, mi dispiace per te, sembra che tu non meriti quei soldi. Tuttavia, quando Mujgan udì parlare di soldi, il suo atteggiamento cambiò improvvisamente. Iniziò a chiedere a Zuley di cosa stesse parlando. Più tardi, nella piccola villa, Mujgan e sua zia accusarono Zuley di aver ceduto quel terreno, sospettando che avesse consapevolmente nascosto l'eredità di Ilmaz in quel luogo. La preoccupazione cominciò a diffondersi tra loro mentre cercavano di capire la verità. Mentre la tensione aumentava, la dottoressa Fikret decise di rivolgersi a Fekei per cercare il suo aiuto. Sosteneva che i soldi trovati nel terreno appartenevano al suo figlio, Kem. Fekei, apparentemente calmo, estrasse alcuni documenti in cui Ilmaz aveva istituito un fondo di 30 milioni di lire che sarebbe stato accessibile a Kem una volta raggiunti i 21 anni. Quando Mujgan lesse i documenti, scoprì che Ilmaz aveva pianificato tutto molto prima della sua morte, con il sostegno di Fekei. La realizzazione colpì Mujgan con una profonda mortificazione, facendole capire che Ilmaz aveva sempre avuto suo figlio come priorità assoluta nei suoi pensieri. E così si conclude questa intensa tappa della storia di Beige, Zuleya, Chettin, Gulten, Mujgan, Fikli e Fikret. Un intreccio di emozioni, tradimenti e rivelazioni che ha tenuto tutti noi con il fiato sospeso. Ringraziamo voi, cari spettatori, per averci accompagnato in questo viaggio narrativo. Per chi già ci segue, vi invitiamo a continuare a sostenerci con il vostro affetto, i vostri commenti e i vostri like. E per coloro che non sono ancora iscritti, vi chiediamo gentilmente di farlo subito, e di lasciare un ulteriore mi piace, per far crescere questa meravigliosa comunità, di appassionati di storie intriganti. Non vediamo l'ora di raccontarvi le prossime avventure, di questi personaggi affascinanti. Restate con noi, e continuate a seguirci per scoprire cosa il destino ha in serbo per loro. Grazie ancora, per la vostra fedeltà e supporto.